Gesù ebbe compassione di loro perché erano pecore senza pastore. Sembra un quadro dell'attuale situazione. La pandemia alla volte non ci ha resi più solidari, ci ha resi più egoisti, chiusi in noi stessi, magari pronti a rivendicare il nostro orgoglio, magari di italiani per aver vinto il campionato europeo, magari per essere contenti perché Kefsa Vittoria farà aumentare il pille. Ma poi la vita reale, concreta, ritorna ad essere una continua lotta fra il mio io, l'orgoglio, la società e dall'altra parte la parola di Dio. I discepoli ritornano e quasi sono contenti perché riferiscono quello che Gesù aveva, quello che avevano operato per mezzo della potenza della parola di Gesù. Gesù non li non li complimenta, non si rallegra con loro. In un'altra parte del Vangelo si dice che dirà loro, dirà le grazie perché i loro nomi sono scritti nel cielo. Li prende in disparte, parla loro, li prende in casa, lontani dalle folle e parla loro, spiega il significato di quanto era accaduto, di quanto stava accadendo, di quanto stava prefigurandosi la sua missione con la predicazione e soprattutto il dono della sua vita a Gerusalemme. Ed è la stessa esperienza che noi come Chiesa oggi siamo chiamati a fare. Siamo un pugno di uomini, una piccola minoranza nel mondo delle razze, della cultura, ma veniamo da Gesù formati nel deserto per una vocazione universale, perché possa essere entusiasta l'accoglienza di un popolo. E noi come Chiesa, come credenti, siamo chiamati a credere che la fecondità, la realizzazione della nostra, della missione della Chiesa, che Gesù affida a ciascuno di noi in quanto battezzati, non viene dal mondo, non viene dai poteri costituiti, occulti o meno occulti. Non viene dal prestigio delle istituzioni. Anche la Chiesa, alle volte, esponenti, vescovi, sacerdoti, fedeli, rivendicano questo prestigio della Chiesa nella società. No, la Chiesa è chiamata ad essere lievito, ad essere luce. Da che cosa dipende allora questo successo? Dalla fede della comunità. Il successo della missione dipende dalla fede con cui noi crediamo, accogliamo, testimoniamo questa parola. In fondo lo dobbiamo riconoscere. Noi, come i discepoli, siamo delle comunità disperse, delle comunità contestate in qualunque parte del mondo. Non si tratta soltanto di pensare al decreto Zan, con cui qualche partito pretende ancora di piantare qualche bandierina. Ma dov'è la forza, la capacità della Chiesa, degli intellettuali cattolici di poter proporre una serena riflessione nel distinguere fra quello che è la libertà di un adulto, la consapevolezza e di un adolescente, di un bambino? Oppure il dramma delle carceri? Come si fa a promestere la costruzione di nuovi padiglioni quando la vita è invivibile per coloro che magari in carcere non possono permettersi un avvocato? E sono lì i ladri di polli in carcere e chi ruba invece e ha la capacità di avere un avvocato è a casa. Allora se come comunità noi saremo aperti alla realtà, a quello che Gesù vuole, perché Gesù lo dice attraverso il profeta Geremia e ben capitolo 23, Dio promette, lui promette pastori nuovi secondo il suo cuore, pastori che verranno dalla dalla stirpe di Davide. Gesù buon pastore, pastori soprattutto secondo il cuore di Dio. E allora se saremo comunità aperte alla parola e supereremo la tentazione di sentirsi i perfetti, i migliori, rischiando di essere soltanto una setta, un ghietto, peggio, una realtà che non riesce più a incidere né al suo interno, dove pretendiamo ancora di rivendicare il concilio di Trento, l'antica tradizione del latino che in fondo non è mai esistita, perché prima del latino c'è la tradizione ebbraica e giudaica della lingua, Gesù parlava in aramaico, ecco ci creiamo dei farsi problemi e il mondo va oltre, ma Gesù viene appresso a noi, sbarca con la barca, ci vede la nostra compassione e ci dice coraggio, io sono con voi fino alla fine del mondo.